benvenuti sono way of fire 75 e oggi ci troviamo in un nuovo unboxing sono stato attirato un po di tempo fa da questi gioiellini guardate che belline anche come presentazione del pacco devo dire la verità come presentazione anche come presentazione della confezione devo dire che è veramente molto carina oggi si 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 sceglie quasi sempre per un'impostazione di questo tipo cioè praticamente una una confezione di plastica completamente trasparente che quindi mostra praticamente il prodotto diciamo questa è la tendenza attuale del marketing andiamo ad aprire la confezione sono allora ci sono dei fermi che uno adesso mostrano un po di autismo è un po di managrenzia come si dice a casa mia allora allora non penso che sia grandemente ma devo ammazzare ok ma allora praticamente ti danno anche per smartphone è evidentemente un è un'adattatoria per smartphone vabbè lo otterremo vabbè questo lo otterremo poi mamma mia scusate ma non è del tutto facile ok allora praticamente si vede sì queste sono ok la messa a fuoco queste sono le nostre metti la fuoco aspetta metti la fuoco a fuoco cazzo ok queste sono teniamola fermissima questa è la l'auricolare sembrano di giocattolini eh bisogna dire la verità sono dei giocattolini tremmendi questo invece teniamolo fermo se non lo metto a fuoco questo invece è l'auricolare e praticamente questo è l'altro twitter questi come potete vedere sono sono di montarlo fermo se adesso in fuoco sono gli altri gli altri tappini probabilmente prenderò questi più grandi e devo dire guarda come gesticolo bene ahahahahah wow vabbè basta allora eccoci dopo lo spacchettamento come vedete ormai la diciamo così la confezione è stata aperta dentro c'era anche questo che è un sacchetto dove si possono mettere gli auricolari e allora andiamo a vedere questi nuovi auricolari cioè i CX275S allora li ho provati per un paio di giorni proprio per diciamo testarne le prime opinioni e intanto qui apriamo il sacchetto lo togliamo e devo dire che mi hanno impressionato ok li apriamo qua c'è ancora ho lasciato ancora il fermo eccoli qua eccoli qua li apriamo ok queste sono le cuffiette come potete vedere hanno l'auricolare perché sono appunto foto da perché sono da smartphone e come potete vedere sono della Sennheiser adesso vediamo se me lo mette a fuoco ok come potete vedere sono della Sennheiser li ho provati quindi il microfono è davvero interessante molto pulito come acquisizione e diciamo adesso vediamo agli auricolari allora naturalmente questi sono degli auricolari in IR cioè praticamente si inseriscono direttamente nel paudiglione auricolare questo cosa comporta comporta che naturalmente il suono è molto ma molto più fedele molto più forte dal dal punto di vista diciamo dell'ascolto generalmente questo tipo di auricolari risulta sempre leggermente più diciamo così leggermente più gracchiante il rispetto proprio per il fatto che viene inserito nell'auricolare ha dei volumi abbastanza alti tende a gracchiare questi sinceramente fino ad adesso cioè a diciamo pochi giorni dal primo utilizzo non ho avuto bisogno di alzare il volume allora una cosa da dire si può vedere bene da qui se mette a fuoco mi ha trovare il punto di messa a fuoco vabbè lo mettiamo così allora il punto secondo me più forse negativo di queste di questi auricolari sono come potete vedere il filo che collega l'auricolare poi al cavo vero e proprio al diciamo al cavo che porta il il suono poi all'auricolare come vedete finissimo quindi cosa dire sicuramente non so quanto possono essere longeve da questo da questo punto di vista sicuramente ci sarà da vedere poi alla fine quanto effettivamente dureranno perché ricordiamoci essendo per smartphone queste vengono messe per esempio per strada e naturalmente possono subire tutta una serie di urti di strappi che sicuramente questo tipo di filo secondo me di filo così sottile secondo me fa la fatica a resistere alle sollecitazioni a lungo andare più importanti considerato che poi tutto il filo come potete vedere è finissimo anche questo filo che sono anche queste parti qui che solitamente sono quelle che si rompono più facilmente diciamo non risultano molto molto robuste però ho notato che questo è comunque un trend generale nel senso che quasi tutti i modelli sono fatti così ormai penso per questioni di stile perché comunque come vedete ha uno stile molto diciamo molto particolare veramente bello da vedere bisogna dirlo hanno un'egomicità pazzesca perché comunque sono come potete vedere sono fatte per aderire al padiglione auricolare come potete vedere aderiscono perfettamente al vostro padiglione auricolare quindi per esempio questa la metterete solo a sinistra cioè calzerà solo a sinistra e l'altra solo a destra diciamo la parte per riconoscerla e qui è quasi illegibile però diciamo il fatto dell'auricolare a sinistra lo fa riconoscere subito quindi naturalmente sarà questa questa qui sarà sempre la sinistra quindi non è difficile da capire allora questo tipo di di cuffiette diciamo per la musica non hanno il sistema naturalmente contro il perché vedete sono tonde quindi non è quello piatto che invece non si dovrebbero attorcigliare infatti queste si attorcigliano un pochettino però ragazzi credetemi da un punto di vista e qui veniamo secondo me all'aspetto migliore e alla fine servono a questo non è che servono ad altro ragazzi veramente è davvero impressionante queste auricolari che costano comunque ricordiamoci intorno ai 40 euro non stiamo parlando di qualcosa tipo Bose che costa 100 150 anche 200 euro e magari ha una resa spettacolare no queste queste costano 40 euro e hanno una resa che almeno secondo me almeno secondo il mio ascolto è paragonabile a una cosa del genere ok sempre sinistra queste sono diciamo quelle più di punta da stereo che io uso anche nel canale le avrete viste le uso nel canale e sono splendide hanno un suono veramente pazzesco beh queste ve lo posso almeno collegate al pc o allo smartphone danno lo stesso tipo di suono più o meno queste sono migliori naturalmente collegate ad uno stereo però ricordiamoci quindi diciamo sono un paragone che riguarda soltanto il tipo di ascolto perché sono due due oggetti per un uso completamente diverso però trattandosi naturalmente di auricolari quello devono fare cioè la musica i film cioè io mi sono trovato ad ascoltare film vedere video con una qualità veramente interessante nel pc e anche nel cellulare perché anche nel cellulare la musica è incredibilmente bella da ascoltare soprattutto i bassi questo per esempio se ascoltate metal se ascoltate rock sono secondo me sono veramente indicatissimi naturalmente io non ascoltando non ho provato altri generi però secondo me tutti i generi che comunque hanno dei bassi ben bilanciati sicuramente danno una resa incredibile poi anche collegati al pc se magari chi per voi non ha voglia di comprarsi diciamo un headset per ogni tipo di uso sicuramente sono una scelta incredibile però qui torniamo al punto naturalmente se voi le usate per a lungo andare sicuramente queste le rompette perché sono delicate si vede quindi io naturalmente consiglio di usarle con molta attenzione se andate fuori evitate evitate in tutti i modi di usarle in palestra per esempio perché secondo me è il modo migliore per salutarle allora passiamo alla vestibilità di queste allora hanno questi gommini che sono veramente molto interessanti vanno presi naturalmente un po più grandi del vostro del vostro padiglione perché queste devono entrare e devono isolare il padiglione perché altrimenti tendono a scivolare quindi più il padiglione è stretto più queste si ancorano invece se naturalmente rimangono un po più piccole scivolano però veramente ragazzi sono davvero delle delle cuffiette molto interessanti certo bisogna stare attenti all'uso che ne fatte io naturalmente vi consiglio di non usarle un po per tutto cioè di non stare lì a staccare attaccare portarvele in giro mentre magari fate qualcosa che può strappare il perché sicuramente si romperanno io naturalmente ho gli occhi per vedere anche se ho fatto un acquisto di 40 euro non mi aspetto comunque che facendone un certo uso queste alla fine sopravvivano quindi buonissimo secondo me acquisto se vuoi ne avete anche altri anche altre anche altri tipi di auricolari che comunque potete scambiare per esempio come mi ho detto questa per esempio questa tipologia per lei fai questa tipologia per magari dei computer per magari computer e smartphone oppure addirittura questa solo per smartphone e poi un'altra tipologia ancora per il pc in questo tipo di configurazione secondo me sono un acquisto gigantesco se sono perfette perché ti danno una qualità di ascolto altissima però ripeto bisogna sempre stare molto attenti a come si usa quindi anche per oggi da wall of ice è tutto a presto ciao